Ok, salve a tutti, sono XBENTERATI in questo nuovissimo video molto luccicante del mare. Oggi noi siamo ad Amalfi ed è una cosa veramente meravigliosa. C'è il mare che è bello, poi c'è una barca con scritto Salvataggio San Maria a San Rita. Rita, Rosita, la gallina di Antonio Banderas. Io sono qua con i piedi che mi stanno bruciando sulla sabbia. Ciupo ciupo! Poi qua è pieno di pietre perché non è normale sabbia. Poi mi chiedo perché la sabbia è nera? Cioè non è come una sabbia bianca, bianca, giallastra che troviamo sempre. Sembra inquinamento del mare, veramente. Intanto mi sto salutando. Ma sempre nuvele bas... Bas... Ba... Non so come dirlo, va... Più stronze, sì. Non so se stanno arrivando o stanno andando. Poi là abbiamo una specie di monumento. Non so se cacchio è. Ma oggi mi sono voluto prendere giornata solo al mare. Al mare e basta. Poi là su ho notato che c'è una specie di villa. Se la vedete. Sembra una villa o una chiesa. Poi laggiù in fondo tutti gli yacht. Ma questo è quello che si può vedere al mare. Bimbo, un saluto su YouTube. Comunque è pieno di gente qua. Devo sponsorizzare le barche con Salvataggio San Rita perché ne hanno veramente bisogno. Comunque oggi ho caricato il nuovo video che avevo fatto ieri, ma ieri sera. Poi tra una bella e l'altra non sono più uscito a caricarlo. Vai a far cena, poi vai a dormire, fai tutto che è lavo, ti è tardi. No, non sono uscito a caricarlo ieri, ho caricato oggi. E andatelo a vedere. E che si chiamava Tra il Vesuvio e la Funivia Mi. Troppo figo. Allora, è stato bellissimo ieri. Andare Su Funivia era bellissima. Tanto Niente Questo è quello che si può vedere. Sole, sole. Oggi ho deciso di fare un video non tanto lungo, massimo da 5 minuti perché cosa volete che posso far vedere? Solo di marce. Con un monumento, una casa là e là è il nolleggio barche. Sì, yacht. Puoi scegli quello che vuoi, ma... Vabbè. Poi devo sponsorizzare le tartarughe verdi e la bimba che corre come... Non lo so. Non lo so. Come usa in bolt. Comunque, niente. Sono al mare e faico... Anche voi siete faichi e niente. Così posso dire? Ehm... Così posso dire? Niente. Boh... Per oggi decido di concludere così il video. Allora... Se siete di Amalfi... Vi prego mettete like. Tutti quelli che sono di Amalfi. Quindi spolliciate sempre i like. Ma che cazzo... Iscrivete tantissimi commenti e iscrivetevi al mio canale. Se volete altri fottuti video come questi... No dai. Se volete altri video come questi. No ma mi scappa la cacchia. E noi se volete altri video come questi... E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Adesso sto tirando un'aria che non vi dico. Ciao belli.